più che lupi sono bufale hanno il pelo ma sono bufale che pascolano in alto piano i lupacchiotti inviati da fonte sicura le virgolette non si vedono ma la fonte sicura che ti racconta di immagini girate direttamente a mezza selva è talmente sicura che i lupi sono abruzzesi vorrei tanto che fossero lupi abruzzesi in villeggiatura d'asiago ma non è così insomma le immagini messe in onda di un fatto vero i lupi in alto piano sono altrettanto vere ma non c'entrano diciamo che chi li ha messe cioè io più che lupo è stato un tordo anche perché di video autentici di lupi in alto piano negli ultimi mesi ce ne sono ben 40 e andare a prendere l'unico non originale tra 40 denota una discreta mira fantoziana se è vero che è peggio il taccone del buso ancora peggio del buso è una pelliccia di lupo inesistente per cui mi scuso con voi direttamente senza mettere i lupi sotto lo zerbino del far finta di nulla gli animali meritano la stessa dignità di controllo che impegno nelle altre notizie a maggior ragione i nostri telespettatori ma perché è così facile se non si è doverosamente attenti sbagliarsi sul lupo si fa abbastanza demagogia poi adesso poi nel veneto si sta facendo demagogia si sta attaccando al lupo su tutti i fronti e quindi è facile cadere nelle trappole possiamo dire nel discorso del lupo la regione vuole a cacciare dare la caccia al lupo quando potrebbe anche benissimo ad operarla come un'opportunità del lupo in regione veneto vediamo che negli abruzzi diciamo regione principe per il discorso del lupo ci fanno i tour turistici sicuramente c'è il problema degli allevatori e qua bisogna anche capirli che ci rimettono di tasca loro ma bisogna capire che il lupo è un animale di tutti quindi va salvato e va vanno pagati indennizi anche veloci se vogliamo sì che 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 lupo piaccia a tutti indennizi veloci e precisi e subito insomma per gli allevatori che ci rimettono di tasca loro